buongiorno ben ritrovati con l'informazione di tv 2000 allora vediamo subito i titoli di questa edizione banca popolare di bari fallita il governo mette 900 milioni e la trasforma in banca per gli investimenti al sud ma non è stato tutto risolto strage sulle strade nel weekend 9 morti 5 giovanissimi numerosi gli incidenti tra veneto lazio e sicilia qualità della vita l'indagine del sole 24 ore in corona milano roma è 18esima su 107 città caltanissetta fanalino di coda dunque passa tra le tensioni il decreto legge che salva la popolare di bari il governo finanzierà l'acquisizione di quote della banca tutelando i risparmiatori ma cambiando la natura dell'istituto allora ci dice tutto il primo servizio marco bergamaschi via libera salvataggio della popolare di bari dopo due giorni di tensioni il governo ha approvato un decreto che stanza 900 milioni di euro all'agenzia per gli investimenti e lo sviluppo di impresa l'invitalia perché finanzi il medio credito centrale e gli consenta di acquisire quote dell'istituto bancario il più grande del meridione il decreto riguarda misure urgenti per sostenere il sistema creditizio del mezzogiorno e realizzare una banca di investimento consentendo anche il rilancio della popolare di bari il decreto salve risparmiatori dice il leader dei 5 stelle di maio non appena partirà la commissione sulle banche aggiunge chiederemo i nomi di chi ha creato il buco di bilancio con questo decreto avviamo il processo che riguarda uno strumento che in tutta europa hanno la banca pubblica degli investimenti io l'ho sempre detto se dobbiamo salvare i risparmi dei cittadini e mettere soldi in una banca la banca diventa degli italiani i termini del piano previsto dal decreto verranno definiti nei prossimi giorni dai commissari della banca medio credito e dal fondo interbancario di tutela dei depositi giornata importante oggi anche per l'approvazione della manovra fiscale rush finale in senato dove il governo ha posto la fiducia poi il testo passerà alla camera ma sono diverse le norme contestate allora sentiamo augusto cantelli verifica di governo atto primo si comincia questa sera palazzo chigi dopo il duello di ieri sulla banca popolare di bari e subito dopo il voto di fiducia nel pomeriggio al senato sulla legge di bilancio il clima resta teso con lo scontro permanente tra cinque stelle italia viva nel mezzo il pd vero collante della coalizione che tuttavia avverte se si continua così non si va avanti a preoccupare i dem anche i timori di un patto per il voto tra i due matteo renzi e salvini siglato nella villa di verdini che verrebbe confermato anche dalla proposta di giorgetti è rilanciata dal leader leghista di un comitato di salvezza nazionale poi tornare al voto idea che invece non piace alla meloni questa sera dunque la maggioranza prova a stringere i bulloni all'ordine del giorno del vertice convocato alle 21 ci sono i dossier ancora aperti come all'italia ilva ma anche autonomia e giustizia con il tema della prescrizione se dovesse fallire minaccia conte stacco la spina e sullo sfondo delle turbulenze politiche arriva l'onda delle sardine il successo di piazza san giovanni accelera le ambizioni politiche del movimento che si pone l'obiettivo del 25 per cento ma la strada è ancora lunga il comitato organizzatore che si è riunito ieri a roma in un palazzo occupato prende tempo e chiede pazienza la cronaca caso cucchi ci sono novità dal processo a carico di otto carabinieri sui depistaggi nell'inchiesta per la morte del giovane arrestato lo ricordiamo il 15 ottobre del 2009 morto sette giorni dopo all'ospedale pertini vittima di pestaggio due degli imputati i militari massimiliano colombo labriola e francesco di sano hanno chiesto questa mattina di costituirsi parte civile contro due ufficiali francesco cavallo e luciano soligo la motivazione hanno spiegato i legali è che i due carabinieri hanno eseguito ordini arrivati dai superiori si tratta della vicenda delle modifiche ai verbali parliamo ora di cambiamento climatico fumata nera per il vertice onu cop 25 di madrid che non trova l'accordo sulla riduzione delle emissioni delusioni delusione del segretario generale delle nazioni unite antonio guterres se ne riparlerà a bonn il prossimo anno antonio soviero volete essere ricordati come quelli che hanno avuto la possibilità di agire ma hanno deciso di non farlo mentre i governi fanno casini le persone si alzano cop 25 non ha dato risultati ma torneremo più forti nella 2020 e scateneremo movimenti senza precedenti nelle parole di questi due portavoce tutta la rabbia per il fallimento della coppa 25 da parte delle ong e dei milioni di persone che in questi mesi hanno manifestato per il pianeta la conferenza sui cambiamenti climatici si è chiusa ieri a madrid rinviando tutto al prossimo anno i 200 paesi partecipanti hanno fallito ancora una volta non riuscendo a trovare l'intesa sul nodo centrale e cioè sull'articolo 6 dell'accordo di parigi sulla regolazione globale del mercato del carbonio soprattutto a causa dell'ostruzionismo di stati uniti russi a brasile e australia unico punto positivo l'obbligo per i paesi ricchi di indicare di quanto aumenteranno gli impegni per tagliare gas serra la scienza è chiara ma la si sta ignorando ha commentato greda thunberg in short anche il segretario generale dell'onu antonio guttiere si è detto deluso dall'esito se ne riparlerà alla cop 26 di gresgove in scozia dal 9 novembre del 2020 prima i paesi dovranno presentare nuovi piani nazionali per non superare la soglia fatidica di due gradi sopra la temperatura media terrestre per gli scienziati meglio un grado e mezzo per evitare il punto di non ritorno con i piani attuali si arriverebbe a più 3,2 gradi entro fine secolo ennesimo sabato notte di sangue sulle strade italiane nove persone tra cui cinque giovani hanno perso la vita in seguito a numerosi incidenti avvenuti tra lazio veneto e sicilia la cronaca con francesco durante è avvenuto a 90 di piave nel veneziano l'incidente più grave nella notte tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani due donne di 23 25 anni e un uomo di 20 lo schianto si sarebbe verificato a seguito dell'invasione della corsia opposta da parte di un appunto che si è scontrata con una citroen c3 ancora da chiarire le cause del tragico sinistro probabile una distrazione sempre in veneto ma nella serata di sabato a san gregorio di veronella due donne madre e figlia sono decedute a causa di uno scontro fra due auto e nella mattinata di domenica a loria nel trevigiano un ciclista è stato investito da un utilitaria poi finita in un fossato nel catanese un sedicenne è morto e tre giovani sono rimasti gravemente feriti in un incidente la vettura guidata da un diciottenne si è schiantata contro un muro mentre nel lazio sulla via braccianese è morta una ventenne da cui auto è finita contro un albero tornano quindi le stragi sulle strade con giovani vittime spesso nelle notti del sabato l'asaps associazione amici e sostenitori polizia stradale ha rilevato che nei mesi di ottobre e novembre sono morti 50 ragazzi altri 166 sono rimasti feriti secondo i dati istat riferiti al primo semestre 2019 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente sono diminuiti dell'1,3 per cento gli incidenti stradali con lesione a persone mentre il totale delle vittime è in lieve aumento più 1,3 per cento ed è milano la città italiana con la migliore qualità di vita l'indagine del sole 24 ore piazza poi sul podio bolzano e trento la capitale sale di tre posizioni rispetto allo scorso anno calta nissetta diventa fanalino di coda i dettagli con silvio vitelli milano vince ancora una volta replica il primato dello scorso anno e si conferma la città con la migliore qualità della vita nella classifica del sole 24 ore giunta alla trentesima edizione il capoluogo lombardo ha da poco festeggiato il milione 400 mila residenti un record simile a quello raggiunto negli anni 70 del miracolo economico al secondo e terzo posto bolzano e trento che nei trent'anni di questa indagine hanno occupato il podio ben 25 volte seguono aosta e trieste sul fondo invece della classifica messina trapani che perde 12 posizioni agrigento vivo valencia enna foggia crotone e ultima calta nissetta che torna ad indossare la maglia nera per la quarta volta negli ultimi quattro anni ha perso 11 mila abitanti soffrendo di isolamento e criminalità 90 gli indicatori presi in considerazione dal sole non solo economici massa carrara vanta la migliore qualità dell'aria in pm 10 potenza la minore produzione di rifiuti urbani ferrara la più alta percentuale di raccolta differenziata bergamo il più basso tasso di emigrazione ospedaliera isernia il maggior numero di acquisizioni di cittadinanza da parte di residenti stranieri oristano il minor numero di delitti denunciati cagliari il minor tasso di mortalità benevento quello sulle strade dovuto ad incidenti infine barletta vanta la migliore copertura in banda larga e belluno è la città dove si litiga meno col minor numero di cause civili paura nel beneventano dove in mattinata sono state registrate alcune scosse di terremoto una di magnitudo 3.1 l'altra di magnitudo 3.6 entrambe intorno alle 9 molta gente si è riversata in strada per il momento però non si segnalano né danni né feriti fortunatamente il sindaco clemente mastella ha disposto la chiusura delle scuole e degli edifici pubblici a eccezione dei servizi di emergenza è invece di almeno due morti 84 feriti il bilancio del terremoto che ha fatto tremare le filippine la scossa di magnitudo 6.7 è stata registrata ieri sull'isola di mindanao nelle operazioni di soccorso sono state tratte in salvo sei persone erano rimaste intrappolate in un edificio crollato a padada nel sud dell'isola e ieri papa francesco ha celebrato una messa a san pietro proprio per la comunità cattolica filippina romana allora il pontefice ha assegnato una missione speciale fare della propria fede il lievito per costruire la comunione nella diversità cristiana caricato e continuate ad essere contrabandisti della fede grazie è l'invito inusuale che papa francesco rivolge agli oltre 6.000 filippini presenti nella basilica di san pietro per la prima messa del gallo la simbanga bi antica tradizione che durante i nove giorni che precedono il natale vede i fedeli nelle filippine celebrare all'alba per cercare la sintonia con dio ad evocare le donne che insieme al loro lavoro e alla fedeltà comunicano anche la loro fede era stato poco prima padre richi gente cappellano della missione filippina romana 47 mila persone integrate nel tessuto della capitale prezioso nel supporto dato a molte famiglie come badanti o collaboratori familiari uomini e donne che francesco aveva incoraggiato durante l'omelia non dimenticare la tenerezza speciale che dio riserva ai più vulnerabili ci vogliamo impegnare a manifestare l'amore e la tenerezza di dio verso tutti specialmente verso gli ultimi nelle sue parole richiamo ad essere fermento in una società che spesso non riesce più a gustare la bellezza di dio ma anche ad integrarsi condividendo la propria ricchezza culturale e spirituale la vostra fede sia lievito nelle comunità parrocchiali alla quale pertenete oggi e chiudiamo il telegiornale con la musica di natale che ieri è risuonata tra le stanze del senato è la 23esima edizione del concerto di natale a cui hanno assistito come ogni anno le principali cariche dello stato il maestro riccardo muti ha diretto l'orchestra giovanile luigi cherubini composta da tutti i musicisti sotto i 30 anni sono stati eseguiti brani tratti dalle opere di bellini verdi e rossini allora vi lascio con questa musica a seguire terza pagina grazie per averci seguito grazie a tutti